a mio padre al signor max perché ha questo tono da cavallo madronale però a cavalla la gamba e c'è il buco sotto la suola e quindi un miscuglietto tra mio padre e sordi ogni tanto c'è una scevolata sul romano e ha funzionato e ne ho parlato con eros all'inizio abbiamo scelto di fare questo padre un po' così disincattato e surreale che si finge morto in ospedale e poi quando il figlio arriva lo trova che sta ridendo con tutte quante insomma mi sembra che è stata giusta la scelta di fare un personaggio così e poi completamente diverso da quel piccolo film che ho fatto adesso che si chiama filmori d'inverno che invece è un personaggio tragico un personaggio di un professore di liceo ex professore di liceo quindi non c'entra niente è completamente un'altra cosa però ben venga una commedia una commedia televisione infatti sono entusiasta di questo perché è bello vedere che si turbi a fare una commedia sofisticata come questa qui padre di Pietro e sono stato molto contento perché si è creata una bellissima alchimia e ci credi proprio che è il mio figlio adesso per la seconda serie io mi sono tinto i capelli la barba lui si è rileva dalla parrucca quindi lui farà il mio padre saranno serie su buonaccini ma quello che devo dire soprattutto è stato meraviglioso il rapporto con il regista dice beh buona ruffianata no è la verità io ho fatto 102 film nella mia vita quindi ho lavorato un po' con tutti da Roberto Rossellini a Nando Cicero ma devo dire che Eros Buggelli è stata una rivelazione perché a parte la velocità il swing che c'ha nel muovere la macchina sembra veramente vede un film americano perché è raro e poi soprattutto si fanno sempre serie violente no invece questo a fare una commedia sofisticata se dovesse avere successo potrebbe dare il là veramente a tanti registi di tornare a fare la commedia in questa maniera come Eros Buggelli sa fare benissimo e anche gli sceneggiatori che ringrazio perché finalmente diciamo delle cose divertenti perché di solito quando tu fai un film comico io non fatti tanti ti dicono fasce ride ma non ti scrivono niente e ti metta tutto te invece loro ci hanno dato un bel materiale in mano e quindi è stato veramente come dice il tappeto valente è stata veramente una passeggiata di salute tra l'altro posso dire una cosa un po' su Eros perché io con Eros a parte che stimo Eros da 30 anni perché lui fece un film che girava clandestino 30 anni fa che si chiamava Dorme che noi abbiamo mangiato e visto e rivisto con tutto diciamo il gruppo di Boris per cui sono 30 anni che Eros Buggelli a leggere nella mia vita poi ho fatto due serie sempre con lo stesso gruppo diciamo una Kireb e Prime con Lillo e la cosa essendo due guitti Cristian ed io la cosa che un pochino ci faceva soffrire era che Eros fa tantissimi tagli e poi quando tu vedi il prodotto finito dici che meraviglia che ritmo e essendo due guittacci noi facevamo un po' fatica infatti intanto ci guardava e diceva ma non l'abbiamo fatta no perché lui vuole fare la soggettiva di una caramella che a un certo punto è timida ok non c'è cosa servirà oppure te ritrovi la macchina da presa per terra e dice questo è come visto dal gatto questo è come visto dall'acqua però poi guardi il prodotto finito diceva ha sempre ragione Eros per cui insomma ci siamo sentiti in una rete molto protettiva protettiva